Ciao, oggi vorrei parlare di un argomento che potrebbe essere interessante, come scoprire se la persona, il nostro compagno o la nostra compagna sono dei narcisisti o narcisisti patologici anche, solo da come si comportano a livello sessuale. Ovviamente diamo dei punti di massima che riguardano un po' quello che è il comportamento narcisistico nella sfera sessuale. Ovviamente anche le persone normali possono a volte avere dei comportamenti simili, solo che queste persone, le persone normali che non sono narcisiste, dopo aver fatto, aver attuato un comportamento simile, sicuramente si sentono in colpa e sicuramente magari chiedono anche scusa di aver fatto quella cosa lì perché magari sono spinto dall'emozione, dal momento, dall'esaltazione iniziale. Invece i narcisisti rimangono completamente indifferenti, i malefreghisti su quelli che sono questi punti che andremo a vedere, soprattutto perché per loro interessa solo alimentare il proprio ego. Ovviamente il punto fondamentale, il primo punto focale è che il narcisista sicuramente, soprattutto all'inizio, sarà la persona più affascinante, più romantica che avete mai conosciuto. Ovviamente sarà affascinante e romantica ma tendente al controllo, ovviamente. Sicuramente i narcisisti, soprattutto i narcisisti patologici, sono molto attraenti, sono seduttivi perché puntano molto su quella che è la parte della cura della persona, quindi la propria cura, puntano molto su quello che è la parte sessuale per soddisfare ovviamente il loro ego. Per carità non c'è nulla di sbagliato a essere romantici, a essere affascinanti ed essere dei buoni amanti. Il narcisista però utilizza questi punti a proprio vantaggio per poi sfruttare l'altro, per far cadere l'altro in questa trappola di manipolazione e di controllo. Ovviamente perché l'obiettivo principale è quello proprio di andare a soddisfare i propri bisogni. Un altro punto che evidenzia, se siete o meno in un rapporto sessuale con un narcisista, è che il narcisista tende soprattutto a avere interesse verso la performance e cerca approvazione. Quindi il narcisista utilizza il rapporto sessuale per sentirsi un dio, per sentirsi veramente il migliore amante di questo mondo e cerca continuamente l'approvazione del partner. Ed è ovviamente molto sensibile alle critiche, anzi direi proprio che non le accetta. Questo è specialmente vero nella fase iniziale della relazione, quando cercano di impressionare l'altra persona, di impressionare il partner, con performance veramente incredibili. Quindi ovviamente dovete fare attenzione perché se la persona con cui riuscite vi chiede sovente, ah come ti sei trovata, sono proprio un dio, hai visto che figo con me, non hai mai provato cose così fantastiche se non con me, è possibile, se qualcosa continua ovviamente, se ci sono diversi punti che andiamo a vedere che combaciano, che collimano con la persona con cui riuscite, ovviamente se ci sono più punti corrispondenti, è possibile che siate in presenza di un narcisista o di una narcisista. Le persone, ovviamente narcisiste, un altro punto fondamentale, è che ricercano soprattutto interesse sull'aspetto fisico, così a discapito delle emozioni provate, no? Quindi per il narcisista fare l'amore è concentrato sulla sua esibizione ovviamente, ma anche sull'apparire, sull'immagine, no? Ed ha una grandissima versione verso i difetti e le debolezze del partner. Quindi non è per il narcisista l'amore fatto, non è l'amore, non è la fusione di due anime, ma è un interesse personale, un soddisfare i propri bisogni personali, no? Ed è concentrato esclusivamente sulla bellezza fisica, sulla parte esteriore. Quindi andrà sicuramente a evidenziare eventuali vostri difetti che magari non ha visto prima, perché con i vestiti tante volte le cose si possono nascondere, ovviamente, no? Un altro punto fondamentale è che il narcisista tende a soddisfare esclusivamente i propri bisogni. Superata quindi la fase iniziale di corteggiamento sfrenato, tenderà a portare il partner sempre più a soddisfare i propri bisogni. Quindi sempre più a utilizzare, scusate, posizioni, a utilizzare tecniche o modi di fare, appunto, di avere l'astro sessuale che sono a lui consoni andando a trascurare quelle che sono le esigenze o i piaceri dell'altra persona, del partner con cui sta uscendo. Anzi, più delle volte tenderà anche a costringere il partner a fare cose che magari non pensava nemmeno di fare, come rapporti con più persone, come addirittura arrivare a avere rapporti sessuali con altre persone mentre questo sta a guardare o cose simili, quindi al momento ha delle esagerazioni incredibili, perché la cosa più importante per il narcisista è soddisfare il proprio ego. Dell'altra persona non gli frega assolutamente niente. Si arriva poi addirittura al punto critico, quello di gaslighting, dove anche e soprattutto nel rapporto sessuale il narcisista va a denigrare il partner, anche tirando fuori difetti che non ci sono, dicendo che poi non è così in grado di soddisfare il suo piacere, i suoi bisogni, andando veramente a massacrarlo a livello psicologico, cercando così di sottomettere il partner e cercando di portarlo in una condizione di inferiorità dal punto di vista psicologico, in modo da utilizzare e avere un maggior controllo e una migliore manipolazione del proprio partner. E questo è ovviamente un punto critico. Ovviamente un narcisista reagisce in modo aspro e duro quando voi in un rapporto sessuale cercate di fare qualcosa che è al di fuori di quello che sono i suoi canoni, se volete fare magari una posizione che lui non piace, o fare l'amore in un certo modo che lui non vuole, o in un posto dove lui non vuole, perché avete scelto voi, soprattutto perché non ha scelto lui, perché lui ha questa mania di controllo, quindi tende in questi casi ad essere magari a manifestare rabbia, a manifestare anche aggressività o a correcizione emotiva. Sicuramente nessuna di queste risposte che fa sono autentiche, sono delle farse, delle vere, delle proprie recitazioni, ovviamente. Ma il punto finale e più importante è che un narcisista, a parte il periodo iniziale, dopo aver compiuto l'atto sessuale, non considera più il partner. Lui si è sfogato. Boh, sta bene, è del partner in quel momento, non gliene frega più niente. Ha soddisfatto i suoi bisogni. Sicuramente cercherà di nuovo il partner quando sarà lui a pensare che sarà il caso, sarà lui a decidere i tempi, le cadenze degli atti sessuali. Non sarete voi a decidere, lui deve avere il controllo. Sarà lui che dovrà tenere il controllo anche delle vostre necessità. Non farà l'amore con voi quando vorrete voi, ma solo e quando vorrà lui. Anzi, tante volte quando sarete voi a iniziare, lui tenderà a rifiutare, a chiudersi e a dire che non è il caso, perché in quel momento lui andrebbe a perdere quello che è il controllo su di voi. Quindi fate attenzione a tutti questi punti che vi ho elencato. Se la persona con cui uscite attua più di uno di questi punti, e non solo per una volta ogni tanto, ma proprio è una cosa costante, allora sì, siete in presenza di un narcisista e magari di un narcisista patologico. Spero di esservi stato utile. Vi ricordo l'associazione Io Scelgo Me, che è a sostegno delle vittime di violenza e abuso. Per ogni istruzione non esitate a visitare il nostro sito www.ioscelgome.it ed iscriverci. A presto, ciao!